Alle 11 del mattino Londra si è fermata per un minuto di silenzio in memoria delle sette vittime dell'attacco terroristico di sabato sera. Poco prima le autorità avevano confermato l'identità del terzo uomo del commando e si era capito che la leggera pioggia che stava cadendo sulla città avrebbe portato una nuova bufera sull'MI-5, il servizio segreto inglese. L'italo-marocchino Youssef Zagba, 22 anni, appunto il terzo uomo del commando, era stato segnalato agli inglesi dalla polizia italiana che lo aveva fermato l'anno scorso all'aeroporto di Bologna mentre era in partenza per la Turchia, da dove avrebbe poi voluto raggiungere la Siria. Ma soprattutto le spie di sua maestà da oltre due anni conoscevano Kurambat, il 27enne di origine pakistana, ritenuto il capo del gruppo. Nel 2005 era finito in un'indagine per terrorismo che però non portò a nulla, eppure l'uomo era già noto come integralista vicino al gruppo radicale salafita Al-Mujairun. In un documentario di Channel 4, inoltre, era stato ripreso mentre srotolava una bandiera nera simile a quella dell'Isis, il Regents Park. Gli elementi per tenere alta l'attenzione su di lui, dunque, c'erano tutti. Più misteriosa, invece, è la storia del terzo uomo, Rashid Redouan. Nella banca dati della polizia, le sue impronte digitali risultano registrate due volte. La prima, appunto, col nome di Rashid Redouan, 30 anni, di origine marocchina. La seconda, come Rashid Elkdar, di 25 anni, libico. Sul suo corpo è stato però trovato un documento irlandese che ne prova la presenza a Dublino almeno fino al 2011. Ora, la premier conservatrice, Teresa May, ha detto di aspettarsi una revisione dell'operato di polizia e servizi segreti, auspicando l'apertura di un'indagine interna per far luce sui possibili errori o sottovalutazioni. Ma, due giorni dalle elezioni, si alza anche il livello di scontro politico, con il sindaco di Londra, Saeed Khan, e il partito laburista che chiedono le dimissioni della premier. Secondo i sondaggi, tra conservatori e laburisti è sempre testa a testa. Bisognerà dunque aspettare giovedì sera per capire se e quanto peseranno nelle urne gli attacchi di Manchester e Londra.